Direi che questi amichevoli qua sono un po' il riassunto di quello che farà il Parma di Pecchia, cioè partite indecenti come quella con Lugano e quella di oggi, partite discrete come quella con l'Anversa e partite buone con Galtasarai. Il problema è che il Galtasarai è una squadra che ti lascia giocare, ti lascia molti metri di campo in difesa e infatti basta guardare il secondo gol in quella amichevole fatto da Mann che praticamente la difesa e la porta gli hanno detto boh, tieni questo il tappeto rosso, puoi anche entrare in porta. Il problema è che in Serie A non avremo tutte squadre così, infatti molto probabilmente magari con le big faremo prestazioni ottime, magari le vinceremo anche qualcuna, ma poi nelle partite in cui dovremo vincere faremo molta fatica. Anche in Serie B in realtà è stato così, a Parma fanno un po' fatica ad accettare, ma il Parma ha giocato molto spesso contro squadre di bassa qualità rispetto alla nostra, con giocati individuali e non con il fantastico gioco di Pecchia, ma con giocati individuali. Di giocatori che bisogna vedere se in Serie A faranno queste giocate individuali. Ai big oggi io ho il beneficio della preparazione, perché Mann è appena rientrato, però con gli spazi ha giocato bene, senza spazi no. Mi Ale è appena rientrato, a Bernabé non ce l'abbiamo ancora. E su questi concetti siamo credo tutti d'accordo, insomma. Preparazione estiva, i carichi di lavoro, è tutto vero. Infatti non crocifiggerò i giocatori, per quanto il Hernani oggi mi ha fatto cagare come al suo solito, finalmente è tornato quello che conoscevo. Però comunque li posso salvare per questa cosa qui. Il problema è che questa partita qua è il manifesto della pazzia di un allenatore. Mi dispiace andare sempre, non è vero, mi piace, mi dispiace andare contro un allenatore, ma il problema qual è? Chi ha fatto anche oggi delle scelte inqualificabili, cioè una mente umana non li può concepire, è quello che dico sempre. E voi direte, ma è un amichevole, dai, su ci sta che lui sperimenti. Sì, un allenatore normale. Ma voi non me lo darete mai, ma sapete benissimo che Pecchia fa esperimenti anche in campionato. E questi esperimenti li farà anche in campionato. Magari con giocatori un pochino più strutturati. Se arriveranno, se Pedersoli e Krause accendono la sveglia, la impostano e la sveglia inizia a dream, allora forse il mercato lo fanno. Però, cioè, voi avete capito la formazione che ha messo in campo nel finale di partita con l'Aidenheim? Perché c'erano Valeri, anche oggi vabbè, un disastro, il gol è nato ancora da lui. Lui è un disastro, ma veramente disastro difensivo. Ma infatti lui è più un terzino e più un esterno nel centrocampo a 5, la difesa a 3, non la difesa a 4, ma vabbè. La difesa a fine partita era Amoran, che è un difensore centrale, messo terzino destro. Del Prato, che è un terzino destro, messo difensore centrale. Sarà altro nel secondo tempo, verso il finale, Del Prato, giocando sull'esterno, ha fatto una buona discesa. Strano, eh? Però, magari non è una coincidenza. Cercati, vabbè. E Koulibaly, non ho capito se giocava a centrocampo o in attacco. Poi lasciando perdere che neanche il M.K. vuole il B.G.C. ciò e l'H. giocano, ma... Vabbè, questo ormai in teoria dovrebbe essere una causa persa, che non dovrei più neanche nominare. E lì vai la società, perché magari scederebbe il G.C. in prestito e l'H. magari mandarlo via, se Pecchio non li vuole. Magari bisognerebbe farlo adesso, non chissà quando. Comunque, per non parlare della difesa iniziale, c'era Eino terzino destro, che comunque lo fa in maniera eccellente, perché non è forte. E l'anno scorso non l'ha mai giocato, ma vabbè. Valenti, terzino sinistro. Cioè, già c'hai un Aino che, vabbè, in teoria lui dovrebbe essere poi quel terzino che a centrocampo poi va in fase di spinta, va in altezza del centrocampo, bla bla bla, quindi Valenti, in teoria, dovrebbe fare tipo il terzino bloccato. Vabbè, comunque... E poi c'erano Osorio e Balog. Lasciamo perdere almeno, comunque era il suo ruolo, ecco. Cioè, il problema è che questi esperimenti qua li farà anche in campionato. Del Prato giocherà a difensore centrale in campionato. Teniamoci conto, sanno tutti che Del Prato è sprecato in quel ruolo lì. In una difesa 4, perché in una difesa 3 ribadisco che i tempi di Gliacchini l'ha fatto benissimo. Ma molti terzini fanno poi il braccetto in una difesa 3. Non a 4. Vabbè, comunque... Sempre il solito scorso di ritrito di ritrito. Per quanto riguarda il resto dei giocatori, che appunto posso capire che fare una mica vale meno brillante rispetto a un'altra, però bisogna capire qual è il vero Parma. Secondo me, purtroppo, il vero Parma è sia quello con Gata Sarai più raramente, ma sarà, ohimè, purtroppo, secondo me, quello che hai visto oggi. C'è una squadra senza infame e senza lode, però per errori difensivi, perché la difesa purtroppo non l'aggiusteranno, mettiamoci il cuore in pace, arriverà forse per miracolo un difensore centrale, però con questo valere qui, che io spero che, se continua così, Pecchia capisca che deve metterlo via e forse finalmente adattare, o il terzino sinistro, mettere, mettere perché adattare, il terzino sinistro che arriverà, se arriverà, maimè, purtroppo, forse di Chiara rimarrà, e già lì mi preoccupo, oppure spostare quelli a sinistra e mettere finalmente Del Prato nel suo ruolo, ma cose così ovvie, faccio fatica, questa società e questo allenatore, probabilmente le cose ovvie a non piacciono. Comunque, per stazione brutta, volete dire che sia appunto per i carichi estivi, le preparazioni estive, a non dargli troppo peso? Va bene, continuate così. Secondo me, indicazioni che purtroppo, soprattutto per gli schieramenti in campo, si realizzeranno, si avvereranno anche in campionato, ci sono. Comunque, sarò smentito? Non sarò smentito? Spero di essere smentito, ovviamente. Comunque, secondo me, il banco di prova definitivo, secondo me, sarà colotto l'Atalanta, perché l'Atalanta è proprio l'avversario sbagliato per il modo di giocare di Pecchia, perché se gli lasci quei metodi di campo, e lì i giocatori dell'Atalanta non li vedi neanche partire. Vabbè, ancora con le preparazioni estive, carichi di lavoro, poi devono giocare anche con la Madrid, quindi probabilmente avranno il freno a mano tirato. Però, io non sono come quelli che si sono esaltati, oddio mio, col Galatasaray vi hanno vinto, siamo da Champions League. Ok, io tendo sempre anche a demonalizzarmi troppo, cerco di essere equilibrato. Siamo una scuola della salvezza, che basterebbe veramente poco, lo dico sempre, basterebbe veramente poco, per rendere la salvezza tranquilla, ma purtroppo, per qualche strano motivo, che forse capiremo in futuro, anche se forse Krause, quel quarto direttore tecnico cambiato, il futuro forse, non lo so neanche lui, con il futuro probabilmente capiremo perché il Parma si comporta in questa maniera, sul mercato e in campo. Un saluto, al prossimo video. Ciao.